Il presidente del consiglio Manteo Renzi sarà presto di nuovo in Molise, lo annuncia il governatore Frattura che ha partecipato ad un pranzo con il premier in occasione della sua visita in Abruzzo. Frattura e Renzi hanno parlato anche delle ultime polemiche sollevate in regione dopo le dichiarazioni dello stesso Renzi sui consiglieri regionali PD che per non vedersi tagliate le indennità voterebbero no al referendum. Oggi, ha spiegato il governatore del Molise di ritorno dall'Abruzzo, è stata una nuova occasione per confrontarci con il premier su temi importanti come il rilancio produttivo e occupazionale del nostro territorio e riconoscerci nell'impegno che ci vede uno al fianco dell'altro nella costruzione del percorso di rinnovamento dell'Italia e del Molise. Per questo, ha concluso Frattura, il presidente Renzi sarà di nuovo con noi in Molise nel giro di qualche giorno. Fisseremo la data. Ancora controlli a tutto campo nelle ultime ore da parte dei carabinieri del comando provinciale di Isernia. A cadere nella rete dei militari Pentri due giovani di 20 e 25 anni sorpresi nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo in possesso di involucri contenenti alcune dosi di hashish e marijuana. La droga è stata sequestrata mentre i due giovani sono stati segnalati per detenzione illegale di stupefacenti. A Santagapito, invece, i carabinieri hanno denunciato una copia di sessantenni con a carico vari precedenti per reati ambientali i quali, in qualità di proprietari, stavano realizzando una struttura in assenza delle prescritte concessioni edilizie e in un luogo sottoposto a severi vincoli paesaggistici ed ambientali. Infine, è stata incastrata, grazie alle indagini dei militari di Sesto Campano, una cinquantenne del posto già gravata da precedenti per furto e truffa. Nel caso specifico, la donna, tramite artifici e raggiri, aveva messo in vendita online smartphone, tablet, cellulari e altri prodotti elettronici di fatto inesistenti. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione della cinquantenne, i carabinieri hanno anche rinvenuto una SIM card usata per i contatti telefonici con gli ignari clienti. La donna è stata denunciata per truffa e frode informatica. Il rapporto Svimez mette in evidenza la crescita del PIL nel mezzogiorno. Si tratta di un cambio di passo particolarmente significativo, in quanto interviene dopo un settegno di ininterrotta riduzione del livello del prodotto rilevabile in tutte le regioni. Questo è il commento della leader della UIL molisana, Tecla Boccardo, che aggiunge Tutte le regioni meridionali interrompono la recessione, ma la notizia che più ci fa piacere è che il Molise, con Basilicata e Abruzzo, guida la ripresa. Una crescita, spiega la Boccardo, dovuta a turismo e agricoltura, ma anche all'accelerazione della spesa dei fondi comunitari 2007-2013. La ripartenza del Sud va ora sostenuta in ogni modo attraverso una politica di crescita globale di tutto il territorio italiano in cui deve impegnarsi la politica nazionale. Ma, sottolinea il vertice della UIL molisana, occorre anche un impegno più deciso degli amministratori locali per non disperdere le opportunità che sembrano esserci, tra cui area di crisi complessa e non complessa, patto per il Sud, distribuzione di finanziamenti per il sostegno all'agricoltura o impegni di spesa per la sistemazione della rete viaria. E dunque necessario, conclude Tecla Boccardo, introdurre subito da decontribuzione per le nuove assunzioni, accelerare gli investimenti e spendere presto e bene le risorse comunitarie 2014-2020. Siglato questa mattina un protocollo d'intesa tra il presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro, e la presidente dell'associazione dalla parte degli ultimi, Loredana Costa, volto a sviluppare collaborazioni sulla promozione dell'integrazione sociolavorativa dei rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. L'ACEM, in qualità di associazione che raggruppa le imprese edili del territorio molisano, si è impegnata a divulgare presso i propri associati le progettualità volte all'integrazione sociolavorativa dei migranti e a coinvolgere le aziende iscritte sulle iniziative dell'associazione da parte degli italiani. La collaborazione, suggellata con la sottoscrizione di questo protocollo, ha spiegato il presidente dell'ACEM Di Niro, non intende sostituire le maestranze locali, ma affiancarle con giovani immigrati, vista l'attuale difficoltà di reperire giovani disponibili ad essere inseriti come forza lavoro nel mondo dell'edilizia. ANAS ricorda che, a partire dal prossimo 15 novembre fino al 15 aprile 2017, sarà in vigore l'obbligo di viaggiare con catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. L'obbligo, fanno sapere dall'ANAS, è segnalato sulle strade mediante apposita segnaletica verticale, a validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli. Inaugurata questa mattina in piazza Aldomoro a Pozzilli la casetta dell'acqua. Si tratta di un nuovo servizio che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Passarelli ha inteso mettere a disposizione dei cittadini. Da oggi, infatti, sarà possibile rifornirsi di acqua a volontà, naturale, frizzante e ionizzata, a bassissimo costo. Un modo per salvaguardare l'ambiente, in quanto sarà ridotto l'uso di bottiglie di plastica, e anche per risparmiare. L'acqua erogata dai distributori della casetta potrà essere acquistata mediante una scheda prepagata, già consegnata ai presenti al momento dell'inaugurazione, ma che potrà essere ritirata in seguito anche presso lo sportello comunale di Via Roma, oppure inserendo direttamente delle monete all'interno del distributore. Si potranno inoltre acquistare le bottiglie con il cestello o usare normali bottiglie di vetro per prelevare l'acqua. Con la vittoria di Donald Trump probabilmente dovrò trasferirmi in Molise. Così il nostro attore statunitense di origini italiane Robert De Niro, ospite dello show di Jimmy Kimmel, commenta ironicamente l'esito delle elezioni presidenziali USA. L'attore, che aveva usato parole durissime contro Trump durante la campagna elettorale, durante lo show televisivo ha ricordato le origini della sua famiglia di Ferrazzano, vicino Campobasso in Molise ed ha anche ricordato di avere la cittadinanza italiana. Probabilmente ora dovrò trasferirmi lì, ha concluso scherzando De Niro.